Sebbene abbia governato indisturbato il Portogallo per una quarantina d'anni all'ombra del suo vicino più grande e potente, Francisco Franco, Antonio de Oliveira Salazar è un personaggio poco conosciuto, il dittatore dimenticato del XX secolo. In Portogallo Salazar è una figura che suscita sentimenti misti di apprezzamento e odio, e ancora oggi molti giovani portoghesi non conoscono affatto la storia di quest'uomo. Per semplificarmi la vita, De Merminano Herrera, in questa narrazione io chiamerò Salazar il professore. No, non quel professore, il vero professore. Dagli anni 30 della Germania nazionalsocialista agli anni 70, tanto durò il regime di Antonio Salazar, in origine un ex seminarista che trasformò Lisbona in una città di spie e il Portogallo in un paese blindato. Dalla stragrande maggioranza dei critici, Salazar è stato generalmente liquidato in maniera piuttosto semplicistica come un dittatore clerico fascista che non fece altro che imitare le dittature europee del Novecento. Indubbiamente, autoritarismo e repressione furono due elementi che caratterizzarono il suo Portogallo, l'estado nuovo, il nuovo stato, che in teoria doveva essere controllato dall'Assemblea nazionale, ma che in realtà finì per essere un regime autoritario. I campi di detenzione, come quelli di Tarrafal sulle remote isole di Capoverde, erano una realtà macabra e spiacevole per chi dissentiva con il regime. Lapide, la polizia repressiva di Salazar, non faceva sconti. Ma perché, signore e signori, Salazar ebbe meno risonanza di altri suoi colleghi, tra virgolette, dell'epoca? Certamente ci fu da una parte il carattere. Salazar non fu mai un capo di stato carismatico nel vero senso della parola. Non possedeva la dialettica affluente di Mussolini né la carica combattiva di Hitler. Tutt'altro. Era molto laconico. Nascondeva il suo grande valore intellettuale sotto una modestia così profonda da confondersi talvolta con la timidezza. Questo riportavano i contemporanei di lui. Salazar era un professore mite, un economista, non un generale o un politico. Questo non fu, però, un grande limite per lui. Il suo vero punto di forza fu la scaltrezza. Vediamo meglio perché. Sono certamente grandi le difficoltà dei tempi e nessuno sa, in questo canale mondo, qual è la parte di sofrimento che le reserva direto o indiretamente la tragédia della Europa. di sicurezza. Ci siamo capi e, diciamo, in sicurezza, in tranquillità nella Peninsola. E abbiamo la sicurezza che ci accompagnano nella nostra conduta la simpatia e solidarietà moral di molti poveri. Non sicuramente per l'evoismo di una attitudine, ma per il valore europeo di una politica. Confiemo, sobretutto, più che nella forza delle armas, nella poesia e firme unità nazionale, nel profondo e vivo amore alla terra portuguesa, in quei alti esempi, valori della nostra storia, ideali della nostra civilizzazione, che le armas non matano e potete distruire. Viva Portogallo! Nell'anno in cui in Portogallo si istituì la prima repubblica, il 1910, Salazar era un semplice studente di legge ed economia all'università di Coimbra. Figlio di una famiglia contadina umile e profondamente religiosa, Salazar si era fatto notare negli ambienti universitari per le sue critiche mordaci verso la debolezza del sistema politico portoghese. Come la storia di scandale e corruzione avrebbe dimostrato nel 1925, la prima repubblica fu una costruzione debole, instabile e ancora acerba per guidare con coscienza un paese che si stava affacciando alla modernità. Anche in Portogallo, come negli altri paesi europei, la prima guerra mondiale determinò l'avvento della società di massa e delle violente tensioni sociali che sfociarono in aspri scioperi e sommosse. Questi eventi erano il sintomo della fragilità del sistema liberale segni premonitori dell'avanzata della destra radicale, intenzionata a restituire ordine al paese attraverso un certo autoritarismo. Fu nel caos politico del 1926, segnato dal colpo di stato militare del generale Carmona, che Antonio De Oliveira Salazar, all'epoca docente di economia nella vecchia università di provenienza, fece la sua prima apparizione in qualità di ministro delle finanze. Il perdurare della crisi e l'incapacità di risolvere i problemi avevano profondamente screditato i partiti democratici nell'opinione pubblica. Durante i primi mesi dell'anno 1926 l'ondata di dissenso aumentò senza sosta. Nei bar, nelle strade e nelle case si parlava apertamente di rivoluzione. Si sentiva impellente bisogno di liberarsi di un governo che, anche dalla stessa stampa, veniva definito una dittatura demagogica. Il tormentato governo militare riuscì però a tenere banco grazie all'intuizione del generale Carmona, che fece chiamare al ministero delle finanze l'allora sconosciuto professor Salazar, il cui compito sarebbe stato quello di risanare il grosso deficit di bilancio portoghese. Nell'arco di un singolo anno, nel 1928, applicando una rigida politica di contenimento della spesa pubblica e di aumento della tassazione, Salazar riuscì a portare il bilancio inattivo, risultato che mancava al paese da oltre un secolo, stabilizzando così la situazione finanziaria e facendo ripartire l'economia e la circolazione del denaro. Con i risultati, grazie alle sue riforme, arrivarono anche la stima e la fiducia del popolo verso quell'uomo che i commentatori avevano definito un uomo dalle pregevoli qualità intellettuali e dal rigore lavorativo quasi ascetico. Quando negli anni 30 l'Europa e l'America erano strozzate dalla crisi finanziaria di Wall Street, lo storico svizzero Gonzague de Reynold contemporaneo dei fatti scrisse. Il Portogallo, grazie alla dittatura del cristiano Salazar, è l'unico stato al mondo il cui bilancio riesce a registrare un'eccedenza di entrate e dove sussiste una delle tassazioni più basse d'Europa. Consapevole del lavoro che bisognava fare per risollevare una realtà già di per sé periferica come il Portogallo, Salazar aveva da subito iniziato a gettare le fondamenta di quello che sarebbe diventato a tutti gli effetti il suo estado nuovo. Il successo mediatico Salazar lo aveva ottenuto già nel 1927, all'indomani dell'ingente prestito economico avanzato dalla Società delle Nazioni al Portogallo per coprire il buco di 2 miliardi di escudos che pesavano sui conti di bilancio. Quando il professore si rifiutò di accettare un prestito straniero così ingente, prestito straniero che come imposto dalla Società delle Nazioni sarebbe stato concesso solo attraverso l'arrivo di ispettori nel paese che verificassero le manovre di governo, il popolo, che viveva ancora di slanci patriottici, accolse trionfalmente il rifiuto di Salazar. Salazar aveva un'idea tutta sua del ruolo del Portogallo, un'idea nostalgica. Il professore sapeva bene che bisognava ridare fiducia e orgoglio alle nuove generazioni e per far ciò amava ricordare ai suoi studenti di quando, quattro secoli prima, il Portogallo era stato una grande nazione, una potenza economica globale quando, all'epoca del trattato di Tordesillas, il paese si era spartito il mondo intero con gli spagnoli. È necessario che i portoghesi di ieri, disse Salazar, facciano della gioventù il glorioso Portogallo di domani, un Portogallo forte, istruito, moralizzato, lavoratore e progressista. Queste furono le parole che attraversavano spesso i circoli intellettuali di grandi città come Lisbona, Villanova de Gaia e Porto. Sull'onda del patriottismo nazionalista, Salazar, era fattosi professore del popolo, si pose a capo della rivoluzione mentale e morale che avrebbe dovuto scuotere il torpore da tutti i suoi connazionali, chiedendo una costituzione che gli conferisse pieni poteri. L'ostilità di Salazar nei confronti del liberalismo, secondo lui il colpevole del disfacimento della famiglia intesa in senso cristiano e della decadenza sociale, si riflesse nella critica al sistema parlamentare e ai partiti che ne facevano parte, quelli che, ai suoi occhi, erano diventati il simbolo per eccellenza della corruzione e dell'instabilità politica nazionale. Dopo otto capi di stato e 43 governi nell'arco dei 16 anni, la prima repubblica portoghese aveva dimostrato tutti i suoi limiti. «Sono profondamente antiparlamentare», dichiarò il professore in piena accusa ai politici. «La crisi della democrazia deriva da voi, dai vostri discorsi oziosi, dalla vacuità della vostra condotta, dalle vostre indecisioni». Per proiettare il Portogallo in una nuova epoca, Salazar affermò che era necessario porre l'interesse nazionale al di sopra delle clientele dei partiti e di una pubblica amministrazione incompetente che aveva reso il Portogallo oggetto di scherno dei popoli europei. L'estado nuovo che avrebbe dovuto soppiantare il regime liberale doveva costruirsi a partire dalle cellule base della nazione, ovvero la famiglia, la chiesa e le corporazioni che annullassero il conflitto di classe. L'unica organizzazione politica messa in questo nuovo stato fu il partito da lui fondato, l'Unione Nazionale. Salazar, al fine di procurarsi il consenso della nazione, ricorse all'impiego della radio per trasmettere ai portoghesi interi le sue parole e, con l'aumentare dei consensi, il professore, scelto come presidente del Consiglio, venne incaricato alla fine per dar vita a un governo con la nuova costituzione da lui proposta l'anno precedente. Quest'ultima, intrisa di tradizione latina e cristiana, fu accettata dai portoghesi nel 1933, fu simbolicamente quella la nascita della dittatura autoritaria di Salazar, dittatura fortemente supportata dalla classe militare. L'estado nuovo non fu un regime fascista nel senso tradizionale del termine, fu un sistema corporativista, supervisionato dalla chiesa cattolica in stretta alleanza con regime, autarchico e conservativo, ma anche profondamente nazionalista. Le critiche di Salazar si indirizzavano tanto al modello socialista di stampo sovietico quanto al sistema capitalista occidentale. L'estado nuovo doveva essere una terza via. Come annunciato da Salazar nel 1938, in occasione dell'approvazione delle leggi razziali, a differenza dell'Italia, il nostro Stato si pone dei limiti morali che, per loro natura, sono invalicabili. Il nostro non è uno Stato totalitario, al quale tutto viene subordinato e assoggettato. Uno Stato come quello italiano, un cesarismo intriso di simboli pagano-romani e di un'ideologia sempre più affine a quella germanica, sarebbe incompatibile con il genio della nostra civiltà cristiana. Prodotto del suo tempo, in un paese dove la fede cattolica era stata rafforzata dalle storie sulle apparizioni della Madonna di Fatima nel 1917, Salazar era profondamente convinto a che Dio, non il popolo, fosse l'ultima fonte del potere politico e che i cristiani avessero il dovere di obbedire a un governo che rispettasse la sfera spirituale della Chiesa. A differenza dei suoi contemporanei in Italia e Germania, Salazar non ebbe poi mai l'intenzione di creare un partito Stato. L'Unione nazionale fu spacciata come un partito non partito e di conseguenza l'estado nuovo sarebbe dovuto essere uno Stato non Stato. Salazar esplicitò più volte la volontà di non dare una centralità al suo partito in maniera simile a quanto aveva fatto Mussolini in Italia con il partito fascista. Per Salazar l'Unione nazionale doveva essere una sorta di rifugio del conservatorismo, non piuttosto un'avanguardia rivoluzionaria. Salazar non si proponeva quale leader trascinatore del popolo, ma preferiva trascorrere le giornate dietro una scrivania tra le carte dei bilanci statali e l'ordine dei conti. L'estado nuovo era privo di una ideologia dai connotati totalizzanti, come la mobilitazione delle masse, che non rientrava nelle strategie del regime, a differenza di quanto avveniva in Italia. Il rapporto che Mussolini trattenne con le masse fu l'opposto di quello di Salazar. Le grandi adunate tipiche dei sistemi totalitari non erano parte del suo regime e furono deliberatamente evitate, se nonché in particolari momenti di celebrazione nazionale. Per di più, i discorsi del presidente, permeati di un linguaggio ottocentesco, differentemente da quelli della sua controparte italiana, mancavano di retorica rivoluzionaria. Nel suo legame con la Chiesa, nonostante la comunanza con il motto Dio, patria, famiglia del regime italiano, Salazar poteva contare su un intenso sostegno del clero, il quale stimava profondamente la sincera fede religiosa del professore che, differentemente dal trascorso socialista radicale di Mussolini, non aveva mai sfruttato il cristianesimo a fini strumentali. In politica estera, il salazarismo non dimostra mai un atteggiamento aggressivo a scopi espansionistici. Diversamente dall'Italia, il Portogallo preferì evitare di intervenire in tensioni internazionali, tralasciando la ricerca gloriosa di guerre e conquiste. D'altro canto, i lusitani vantavano già diversi possedimenti coloniali. Goa, Capoverde, Macao, Timor-Est, l'Angola, il Mozambico e la Guinea-Bissau. Negli anni in cui fu al governo, Salazar scelse di tenere al riparo il suo paese dai pericoli del contesto internazionale, isolandolo nel tempo, nel timore che essi potessero pregiudicare la sopravvivenza non solo dell'impero coloniale, ma anche della sua stessa creazione politica. Al motto di Il Portogallo non deve morire, il professore tenne fuori la nazione dai devastanti contraccolpi della crisi economica globale che si abbatterono alla fine degli anni vinti. L'economia portoghese all'epoca era di tipo prevalentemente agricolo. L'80% della popolazione era impiegata nel settore primario. L'amitizzazione del duro lavoro dei campi, della tradizionale famiglia contadina e della semplice vita agreste, operata dall'estadonuovo, fecero del salazarismo una ideologia ruralista, ultraconservatrice e legata ai valori della tradizione portoghese. Lo stesso Salazar sosteneva la scelta di una politica economica autarchica, protezionistica e di intenso sfruttamento dei prodotti agricoli ottenuti dallo sfruttamento delle colonie. Il regime favorì a tal scopo la creazione della Federazione Nazionale dei Produttori di Grano, un cartello corporativo che finì per vietare l'acquisto di prodotti esteri anche qualora questi avessero un prezzo inferiore ai prodotti nazionali. Questo però venne applicato solo in parte. Il Portogallo non riuscì mai a soddisfare tutta quanta la domanda interna dei suoi consumatori e fu sempre costretto a fare affidamento all'importazione di prodotti stranieri. Nel pacchetto di provvedimenti il regime concesse fondi per dar via a un enorme piano di investimenti strutturali allo scopo di mostrare ai portoghesi e al mondo circostante il nuovo volto della nazione. Nel corso della vita del regime la rete stradale nazionale raggiunse infatti 30.000 km complessivi a fronte dei 13.000 iniziali, mentre opere di grande impatto architettonico cominciarono ad affiorare nel paese come ad esempio il Ponte 25 Aprile, all'epoca rinominato Ponte Salazar, una costruzione di oltre due chilometri di lunghezza e 70 di altezza eretta sul fiume Tago. A fronte dell'aumento di popolazione negli anni 30 la dittatura progettò nuovi quartieri popolari, le cosiddette case economiche, cioè blocchi unifamiliari dotati di un riquadro di terra coltivabile. Si trattava di un concetto edilizio opposto a quello sovietico, con i suoi grandi appartamenti e le sue Khrushchevka, che secondo Salazar favorivano soltanto la rivoluzione, l'odio e la solitudine e annullavano l'identità dell'individuo in quella della massa. E qui vi rimando al vecchio video che ho fatto su come i sovietici costruivano le città. Ciò ebbe dei risvolti concreti sul PIL nazionale, che tra il 35 e il 37 registrò una crescita dell'11% per poi assestarsi al 6% nel 38 e proseguire per tutto il 1940 in un periodo di stagnazione. L'estado nuovo presentò comunque molte incongruenze. Con oltre il 54% della popolazione ancora analfabeta nel 1940, il dirigismo economico e la rigidità fiscale contribuirono a peggiorare e ad aggravare la miseria e l'indigenza di tutti quei portoghesi esclusi volontariamente dal regime. Oppositori politici fatti sparire dalla polizia di stato e deportati nelle prigioni d'oltreoceano, presunti anarchici insurrezionalisti e comunisti incolpati di attentato alla vita del presidente, sindacalisti come Rolao Prieto esiliati all'estero, lavoratori senza diritti compreso quello di scioperare, abitanti delle colonie lasciati sguazzare nella povertà, nel disinteresse e nello sfruttamento più assoluto. Citando le parole del professore statunitense Howard Viarda, la nuova classe politica che andò a costituirsi intorno a Salazar fu realmente preoccupata dell'arretratezza e della povertà da volersi focalizzare esclusivamente sulle condizioni miserabili di vita rurale e urbana di quella parte della madrepatria che contava. Come riportato da molti commentatori dell'epoca, la furbizia di Salazar fu quella di trasmettere all'estero l'immagine di una dittatura pacata, preservando così l'idea di un Portogallo democratico dove i leader di opposizione dell'Assemblea nazionale ricoprivano semplicemente un ruolo di pura convenienza. Solo tenendo presente la propaganda e anche in caso di più estremi la repressione poliziesca contro comunisti anarchici è possibile comprendere la longevità del fenomeno salazarista che pervase il Portogallo dal 32 al 68. La propaganda era mirata infatti alla classe media o comunque alla classe alta, già in possesso di una cultura politica ben assestata, vale a dire uno strato sociale dove il pericolo di infiltrazione di ideologie o elementi sovversivi come quelli prossimi ai confini spagnoli erano ovviamente maggiori. Fu proprio negli anni della guerra civile che Salazar intuì il pericolo derivante dalla crisi iberica e comprese che una sconfitta delle truppe nazionaliste di Franco avrebbe innescato la miccia in grado di far crollare il nuovo Stato portoghese. Salazar pur mostrandosi neutrale di facciata acconsentì al supporto bellico di armi e truppe volontarie, i viriatos, che furono mandati a sostegno delle armate di Franco contro quelle repubblicane. Franco apprezzando il supporto di Salazar disse nei suoi riguardi, l'uomo che più di tutti io rispetto è Salazar. Lo considero una persona di straordinaria intelligenza, dotata di senso politico sopraffino, di un'umiltà incredibile. Il suo unico difetto è probabilmente la modestia. Superata la crisi spagnola, avendo scommesso tutto sulla vittoria di Franco, la figura di Salazar ne uscì decisamente rafforzata. Di lì a poco la rivista americana Life non tardò a commentare l'operato di Salazar con le seguenti parole. Gli amici della democrazia potranno anche biasimare il dittatore Salazar, ma solo chi è intellettualmente disonesto non può negare che sotto il suo regime il Portogallo si sia risollevato dai guai della prima repubblica. L'imperativo della neutralità adottato nella guerra civile iberica si protrasse anche nel corso del secondo conflitto mondiale. Anche qui si trattò di neutralità, un rafforzamento alla Metapod. La scaltrezza di Salazar fu quella di firmare un trattato di non belligeranza con le potenze alleate Stati Uniti e Regno Unito concedendo loro al contempo la possibilità di installare però delle basi militari nelle Azzorre, senza neanche rinunciare comunque nel frattempo a fornire aiuti militari e rifornimenti di minerali come il tungsteno alla Germania e all'Italia alleata, oltre che negare, come ordine categorico dato a tutti i consoli all'estero, di rilasciare il permesso di espatrio a tutti i perseguitati che il nazionalsocialismo aveva cominciato a opprimere a partire dall'estate del 1933. Accusarlo di rifiutare il visto ai perseguitati fu la retorica utilizzata da chi attaccava il regime che si limitava banalmente a non guardare la realtà delle cose dell'epoca. Il fatto, ragazzi miei, è che il Portogallo applicò una restrizione meno severa se paragonata a quella come paesi del tipo la Svezia, la Svizzera, gli Stati Uniti, il Canada e così via, che fecero in quegli anni quello che effettivamente fece il Portogallo. Pensiamo alla stessa Gran Bretagna che subito la dichiarazione di guerra annullò completamente la concessione dei visti, anche di tutti i perseguitati del regime metleriano per timore appunto di accogliere nemici infiltrati. Il Portogallo fece soltanto il proprio gioco, come quello che facevano tutti gli altri paesi, cioè voleva proteggersi senza discriminazione da possibili agitatori politici per evitare di essere accusato così anche di favorire l'una o l'altra parte nel corso della guerra. La neutralità di Salazar fu la tattica conservativa di un uomo che nonostante lo scaltro doppio giochismo aveva rivelato fin dagli anni trenta tutto il suo scetticismo nei confronti del regime tedesco e della sua classe dirigente, sapendo bene quanto fosse necessario tenersi fuori da qualsiasi conflitto per preservare la propria integrità statale. «Jamais impreguei o insulto o agressão de modo que homens dignos se considerassem impossibilitados de colaborar. No exame dos tristes períodos que nos antecederam esforcei-me sempre por demonstrar como de pouco valiam as qualidades dos homens contra a força implacável dos erros que se viam obrigados a servir. Penso ter ganho graças a um trabalho sério, os meus graus académicos e o direito a desempenhar as minhas funções universitárias. «Este doce país que é Portugal, pequeno na Europa, grande e dilatado nos outros continentes, como o árvore que alimentando-se da seiva lusitana espalhasse longo ramos a sóis diferentes e à sua sombra abrigasse as populações mais diversas, todas igualmente portuguesas, este pequeno país não pode, no nono século da sua história, duvidar da sua realidade de nação. Esta realidade em que englobamos a independência, a unidade orgânica e a missão civilizadora é um pressuposto ou ponto de partida e hoje a toda a discussão. E daqui este corolário. Quem não é patriota não pode ser considerado português. Como ammesso e riconosciuto, anche dagli storici più radicali de sinistra, ad esempio Fernando Rosas, rispetto agli anni 40, a crescita industriale portuguesa, fortemente vincolata al controllo statale, negli anni 50 e poi anche 60, fu tutto sommato abbastanza positiva. Il PIL si mantenne su una crescita annua del 7%, i consumi privati tennero un tasso del 6,5% di crescita, mentre la produzione industriale si agirò intorno al 9%, fattori che cominciarono a trasformare il Portogallo in un paese molto attraente per gli investimenti internazionali. Ma casomai parleremo più nel dettaglio del Portogallo degli ultimi 40 anni. Si narra che la frase «ho visto cose» che boi umani in realtà sia stata pronunciata proprio in quel periodo in Portogallo. Sebbene Salazar non avesse delineato un futuro chiaro e una continuità alla dittatura dopo la sua morte, avvenuta per emorragia cerebrale nel 1970, l'estado novo sopravvisse comunque con il successore Marcello Caetano per oltre 4 anni, fino all'aprile 1974, anno della rivoluzione dei Garofani. Da tempo il mondo coloniale portoghese era ormai in subbuio, dilaniato dalla violenza delle truppe portoghesi al punto da trasformarsi in una vera e propria guerra civile volta all'indipendenza. Per quanto controverso e detestato, il merito di Salazar fu evidente a tutti, storici sia di sinistra che destra. L'aver trasformato il Portogallo da un paese sull'orlo del caos politico ed economico negli anni 20 e poi anche 30 in un attore produttivo di un certo spessore nel continente europeo. La visione isolazionista permise al professore di proteggere il paese dagli effetti devastanti della grande depressione della seconda guerra mondiale. Ma allo stesso tempo questa rigida cautela escluse la società civile portoghese da alcuni dei diritti individuali e democratici più basilari, specialmente nella repressione attuata ai danni delle colonie. Per Salazar, dopo tutto, si trattava semplicemente del cosiddetto rapporto costi-benefici. Il premio Nobel per la letteratura, Giuseppe Saramago, ateo e affiliato con il Partito Comunista, affermò qualche anno dopo la morte di Salazar che, senza la rivoluzione del 74, la situazione portoghese non avrebbe poi più di tanto riportato chissà quali grossi cambiamenti. Che questa sia una critica rivolta alla situazione del Portogallo oppure un elogio indiretto al vecchio professore, non sta certo a me deciderlo. Na verdade, l'orgimento in cui viviamo dopo il 28 di maio è impremiabile alla histeria politica che va per il mondo. La razza è che la agitazione politica è inimiga del buon governo e non si può tirare il rendimento dei migliori spiriti se non dentro di atmosferi dei passaggi e del funzionamento regolare delle istituzioni. Come al solito ragazzi vi ringrazio enormemente per l'ascolto. Vi straconsiglio di stare allerta per i prossimi 3-4 video, insomma il prossimo mese perché si tratterà di un mese fatto di reportage che intendevo tra l'altro fare da moltissimo tempo. Andrò prima a Carrara e poi a Trieste. Saranno video collegati all'incirca l'un l'altro su argomenti caldi del nostro passato contemporaneo avvenuti in Toscana e poi nel Nord-Est. Per chiunque volesse tenersi aggiornato sulla produzione di questi 3-4 reportage vi ricordo che potete farlo tramite la mia pagina Instagram mentre se diciamo ciò vedrà la luce questo è essenzialmente merito del sostegno di tutti i miei contributori su Patreon grazie ai quali potrò viaggiare a battere i costi di trasporto per realizzare questi video. Spero vivamente che siano i primi 3 video di viaggio documentaristico storico di una lunga serie. A presto ragazzi, per Aspera ad Astra. Devo, a providienza, a graça di essere pobra. Sem bens che valiano, per molto poco sto preso alla roda della fortuna. Nem falta, mi fanno mai faremo lugares rendosi, riquezza, ostentazioni. E per a ganhar nella modestia a cui mi habituei e a cui posso vivere, o pò di ogni giorno non ho di armi nella trama dei negozii o in compromettore di solidarietà. Sono un uomo indipendente. Aplausos 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 Aplausos